Lieve aumento per il Fuzzi Mib, al pari delle principali borse europee, che si muovono sulla parità Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, in primo piano Telecom Italia, che mostra un forte aumento del 4,11% I più forti ribassi si verificano su Banca MPS, che continua la seduta con meno 1,74% Sul mercato delle materie prime, lieve aumento per l'oro, che mostra un rialzo dello 0,22% È previsto mercoledì dagli Stati Uniti l'annuncio sia del PMI composito, che dell'ISM non-manifatturiero Domani, in Unione Europea l'agenda prevede il dato sul PMI composito Si attende sempre dall'Unione Europea la diffusione delle vendite al dettaglio, previsto mercoledì